Sono 29 i rettori delle università africane presenti alla conferenza organizzata all'Università di Teramo. L'incontro è una delle iniziative del secondo forum del Gran Sasso, dedicato quest'anno al tema della prevenzione, via per un nuovo sviluppo. Un appuntamento che riunisce nell'Ateneo Teramano varie istituzioni del territorio abruzzese e non. La conferenza con i rettori africani rappresenta un evento straordinario per l'Università di Teramo, impegnata da tempo in progetti con il sud del mondo. Devo dire che l'argomento generale del forum è stata la prevenzione, però anche mettere insieme e discutere del presente, del futuro dell'Africa, significa fare prevenzione. Quindi ci sta perfettamente bene all'interno del forum. Oggi stiamo nella sessione proprio dedicata ai rettori africani, stiamo discutendo di salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico, ma anche gettando le basi per una nuova collaborazione per lo sviluppo. Quindi su basi paritarie, quindi non assistenzialismo, ma l'Africa è un'opportunità anche per l'Italia, anche per i paesi europei. Quindi tutto questo porterà alla firma di un documento che si chiama Dichiarazione di Teramo, quindi Chart of Teramo, nella quale si buttano proprio le basi di questo accordo, sia di valorizzazione, come dicevo prima, del territorio, ma anche e soprattutto nuove basi per la collaborazione didattica e di ricerca. Una giornata importante per sviluppare questa cooperazione a livello universitario tra il continente africano e il continente europeo, più specialmente l'Italia. Qual è il messaggio che lei darà quando tornerà alla sua università? Dirò che la cooperazione con l'Italia è qualcosa di grande, di forte, che possiamo fare. E vorrei incoraggiare gli studenti egiziani a venire a Teramo, anche per studiare in questa bella università e anche per vivere in questa bella regione, che sono lì a Abruzzo.